Oggi viene anticipata la sentenza che sarà gridata da Ponzio Pilato nel giorno del venerdì santo. E' meglio che uno muoia per tutti. Ecco la matematica di Dio, offrire il suo figlio per salvare l'intera umanità. I capi dei sacerdoti pensavano che uccidendo Gesù avrebbero eliminato ogni traccia. Eppure la loro decisione è un segno lasciato da Dio all'umanità. Gesù dona la vita per il mondo. E' presente un altro segno più grande, la luce del risorto che si irradia sul mondo e squarcia anche le tenebre più fitte. Accompagnati da questa luce entriamo nella settimana santa. Cosa vuol dire essere stato redento da Gesù per te? Senti il desiderio di ringraziare la misericordia di Dio per averti salvato dalla morte eterna.